Siamo ancora riuniti con il governo regionale per esaminare in maniera responsabile la relazione che arriva dal Comitato Tecnico Scientifico. Fotografa una realtà preoccupante perché è aumentato il numero dei contagi negli ultimi giorni, il periodo delle festività ha registrato un calo di attenzione e quindi le conseguenze si pagano adesso. Dovremo adottare delle misure restrittive e lo faremo dopo una riflessione assai approfondita nella giornata di domani. Nel frattempo arriveranno le determinazioni del governo nazionale, ci confronteremo con Roma e dobbiamo necessariamente correre ai ripari perché è un peccato di fronte alla campagna di vaccini che ci vede fra le prime regioni in Italia mobilitando centinaia e centinaia di personale sanitario e poi dobbiamo registrare la impennata dei contagi che rischia di mettere tutto in discussione. Quindi serviranno provvedimenti necessari, adottati con fermezza, purtroppo dico, ma abbiamo la necessità di farlo. Domani sarete aggiornati sulle cose essenziali. Sulla scuola c'è poco da aggiungere, la didattica a distanza continua fino al giorno 10, per le altre scuole, per gli altri ordini e gradi rimane vigente il provvedimento nazionale, ma anche sul fronte delle scuole domani decideremo quale sarà la misura più giusta e ragionevole.